A volte la vita frenetica di tutti i giorni ti lascia davvero poco spazio da dedicare alle cose che ti piacciono. Coccolare i gatti, far volare gli aquiloni, costruire castelli di sabbia. Di certo non annoiarti a fare la spesa! Ma adesso con SalveUp la spesa può diventare veloce e divertente. La prima cosa da fare è andare in uno dei nostri punti vendita. Con un clic troverai subito quello più vicino a te. SalveUp ti aiuta a ricordare le cose che devi acquistare. Una pratica lista della spesa sempre con te. Con l'opzione Salva Tempo potrai scansionare i codici a barre dei prodotti che acquisti per risparmiare tempo una volta arrivato in cassa. Con la funzione Offerte consulta la lista delle promozioni così potrai riempire il tuo carrello con prodotti di qualità risparmiando. Arrivato in cassa non dovrai svuotare il carrello ma basterà scansionare il codice di fine spesa con SalveUp. In un attimo paghi e la spesa è fatta. E se hai dimenticato la tua carta socio non preoccuparti. Con SalveUp l'avrai sempre a portata di mano. Cosa aspetti? Scarica subito SalveUp e riprenditi il tuo tempo libero.